bentornati sul mio canale oggi come questo progettino semplice e che possono realizzare tutte sono praticamente quattro mattonelle cucine insieme e si forma questo poncho che si può indossare in due versioni nella versione che vi sto facendo vedere con le punte sulle braccia oppure come poncho classico tranquillamente basta girarlo e avrete il vostro classico poncho con le due punte una avanti e una dietro è molto semplice e la mattonella che ho scelto è una mattonella molto simile al punto grelli ma non lo è quindi potete indossarlo come vedete anche in questo modo portando la punta da un lato e dall'altro quindi a più o meno tre indossi quindi spero che questo progettino io preferisco indossarlo in questo modo con le ponte che mi scendono sulle braccia ecco qui a me piace indossarlo così ma ciò non toglie che si può indossare nelle versioni che vi ho fatto appena vedere quindi spero che questo progettino molto semplice perché come ripeto la costruzione sono 4 mattonelle e quindi è un progetto adatto tutte anche alle principianti quindi che cosa dirvi vi lascio al tutorial e noi ci vediamo in un prossimo progettino eccoci qui al tutorial del poncio savana questo poncio è tra virgolette un classico ed è costruito su quattro quadrati quattro piastrelle grandi io le ho fatte 36 per 36 però per ogni taglia in più anche in questo caso farete due centimetri in più per ogni taglia in meno due centimetri in meno io questo poncio per realizzarlo ho utilizzato due gomitoli di savana degradè di katia ed i gomitoli sono adesso vedo tutte le specifiche praticamente 150 grammi per 270 metri ed è un 75 per cento acrilico 15 per cento lana e 10 per cento alpaca la casa ci consiglia l'uncinetto dal 6 al 7 io ho utilizzato il 6 e per realizzare questo progetto io ho utilizzato due gomitoli e del secondo mi ha avanzato questo che adesso io utilizzerò per farvi vedere la piastrella quindi a me saranno avanzati un 30 grammi di filato quindi per una taglia superiore alla mia che è la 48 secondo me con due gomitoli dovreste andar bene però per taglie superiori vi consiglio un gomitolo in più io l'ho preso questo filato sul sito www.merceriaflavia.it e ci sono se non sbaglio altri due tonalità altre due sfumature se voi che mi seguite acquistare sul sito quando andrete a chiudere il vostro ordine al momento e diciamo della chiusura dell'ordine inserirete il codice sconto franci tutto minuscolo è attaccato e avrete uno sconto del 5 per cento sul vostro ordine quindi detto ciò io con l'uncinetto del numero 6 adesso vi faccio vedere come realizzare la piastrella è molto semplice e l'ho già pubblicata sulla community del mio canale quindi voi non dovete fare altro che realizzare quattro piastrellone tutte della stessa misura quindi identiche tra loro ripeto le mie sono 36 per 36 per ogni taglia in più aggiungerete due centimetri in più quindi se ho fatto 36 per 36 tagli una taglia superiore la 50 farete 38 per 38 taglia superiore 40 per 40 quindi vedete voi e le vostre visure comunque torno a ripetere che un poncio in come questo fino ad una taglia 50 vanno bene due gomitoli allora adesso vi faccio vedere la piastra come realizzare la piastrella ripeto molto semplice io avvio quattro catenelle quindi una due tre e quattro chiudo in cerchio con una maglia bassissima mi alzo con tre catenelle 2 e 3 che è la mia prima maglia alta poi carico il filo rientro in questo archettino e faccio una seconda maglia alta e una terza maglia alta questo filato si lavora molto molto bene è molto scorrevole e adatto un po anche alle principianti è molto caldo è molto sofficio addosso non si sente per niente ma nello stesso tempo è anche molto caldo tre catenelle carichiamo il filo rientriamo e ci nascondiamo anche la codina quindi dobbiamo fare quattro gruppetti di 3 maglie alte separati da 3 catenelle quindi una due tre rientriamo e rivediamo il nostro gruppetto quindi una quindi 2 e 3 3 catenelle una due tre carichiamo il filo rientriamo e facciamo l'ultimo gruppetto quindi 3 maglie alte una quindi 2 e 3 3 catenelle 3 e ci chiudiamo sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro e in questo modo abbiamo impostato il nostro la nostra piastrella con i nostri quattro angoli e se scusate se quattro angoli 1 2 3 e 4 adesso che cosa facciamo camminiamo con delle maglie bassissime in questo modo e ci portiamo nell'angolo perché questi sono due giri che vanno sempre ripetuti quindi ci troviamo nell'angolo e cosa facciamo una catenella rientriamo e facciamo la maglia bassa poi una due e tre catenelle rientriamo maglia bassa una due tre catenelle rientriamo e facciamo la maglia bassa 1 2 3 catenelle andiamo nell'altro aumento e facciamo la maglia bassa 1 2 3 catenelle rientriamo maglia bassa una 3 catenelle andiamo nell'archetto successivo e gli facciamo maglia bassa 3 catenelle in maglia bassa nello stesso archetto 3 catenelle 2 e 3 e ci chiudiamo sulla maglia bassa di inizio giro con una maglia bassissima quindi in questo modo abbiamo fatto anche il secondo giro adesso per il terzo giro entriamo nell'archetto delle 3 catenelle con una maglia bassissima facciamo una due e tre catenelle rientriamo maglia alta e seconda maglia per un totale di 3 1 2 3 catenelle rientriamo e ripetiamo le 3 maglie alte una due e tre una catenella andiamo dove abbiamo le 3 catenelle facciamo le 3 maglie alte una due e tre una catenella e ripetiamo l'aumento quindi 1 2 e 3 3 catenelle rientriamo una due e tre una catenella e le 3 maglie alte quindi dobbiamo ripetere questo per tutto il giro ci vediamo al termine abbiamo fatto l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte facciamo una catenella e ci chiudiamo sulla terza delle 3 catenelle di inizio giro con una maglia bassissima camminiamo con le maglie bassissime in questo modo e ci portiamo al centro e ripetiamo il giro delle 3 catenelle degli archetti quindi maglia bassa 1 2 e 3 catenelle rientriamo maglia bassa 3 catenelle 2 e 3 maglia bassa e così via per tutto il giro quindi come vedete la piastrella è molto molto semplice quindi adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere la costruzione cioè come si uniscono le piastrelle allora una volta che voi avete fatto le vostre quattro piastrelle io ne avevo già due realizzate per il progetto precedente sempre di katia del filato ne avevo fatte alcune del filato aspettate di quel nome instagram e quindi ve lo faccio vedere con queste la costruzione quindi una volta fatte le vostre piastrelle nascosto il filo e tutto quanto metterete la prima in questo modo abbassa un pochino la prima in questo modo con le punte così poi prendete una un'altra piastrella tutto dal rovescio nel senso che metterete la prima via stella piastrella con il dritto rivolto verso di voi poi prendete l'altra piastrella e la piegherete in questo modo poi mettete il dritto rivolto verso l'interno in questo modo e prendete l'altra piastrella e la metterete in questo modo quindi dove dovrete fare le vostre cuciture le vostre cuciture le farete prima facciamo così fate questa cucitura in questo modo questa cucitura in quest'altro modo quindi queste sono le prime due cuciture poi posizionate questa piastrella sopra e andrete a fare l'altra cucitura quindi come vedete per la costruzione è semplicissimo ricapitoliamo insieme avete fatto le quattro piastrelle grandi tutte della stessa misura poi che cosa fate mettete la prima in questa direzione prendete una piastrella e la posizionata da questo lato la seconda piastrella dall'altro lato quindi andrete a fare questa cucitura o con acqua e filo o con l'uncinetto come più volete e andrete a fare questa poi posizionate l'altra mattonella in questo modo pieghiamo questa mattonella e facciamo questa cucitura pieghiamo l'altra mattonella e facciamo l'altra cucitura una volta che voi avete fatto le vostre cuciture io sul mio progetto non ho fatto poi altro che riprendere il collo con un semplice con semplici con due semplici giri di punto basso nulla di più e come giro di rifinitura per il bordo del del poncio ho fatto semplicemente questi archetti di 3 catenelle come rifinitura come indossi vi ho fatto vedere che si può indossare classico ma si può indossare anche in questo modo anche in questo modo con le punte che scendono sul braccio ecco qui diciamo con le punte laterali oppure con come un poncio classico quindi come vedete è semplicissima la costruzione come ripeto lo faccio rivedere per l'ultima volta come posizionare le piastrelle così non vi sbagliate quindi in questo in questo modo si posiziona la prima piastrella in questo modo la seconda e in questo modo la terza fate le vostre cuciture posizionate la quarta piegate fate la cucitura piegate fate la cucitura se volete fare due giri di punto basso per il collo e un giro di punto basso inferiore per le rifiniture deciderete voi quindi come avrete visto non è così complicato sono quattro piastrelle e ci creiamo un poncio quindi spero che vi sia stato che vi piaccia questo progetto che vi sia stata mi sia stato utile perché è molto molto semplice e che cosa dirvi io mi auguro che vogliate realizzare le vostre versioni e noi ci vediamo in un prossimo progetto ciao